Musica Aspetta un attimo Musica C'è uno che è per terra C'è uno per terra Ciao Grandi 8 Attenzione Trazione Il colp è Dianacchiano Passa a meno Passa a meno Passa a meno Passa a meno Divinato Quattro Quattro Bene Io ho visto un Carminiera che sparava qui della Transenna e poi due di questi capitatori, penso che saltavano giù uno prima si è tolto le scarpe poi si è tolto i pantaloni per correre meglio e si è stato fatto un passante mi hanno detto ah beh niente, eravamo qua abbiamo sentito un colpo con la macchina ci siamo probabilmente un po' agitati e a un certo punto abbiamo sentito dire a terra a terra e ci siamo buttati per terra e poi non abbiamo visto niente poi ci ha detto che tutti stavano proseguendo da quella parte qui magari della botta si installa un mattino e poi ci sono stati e poi si sta a spettare non vanno a spettare Grazie a tutti. Grazie a tutti.